oggi o perlomeno per adesso nessuna notizia di mercato in questo video notizie ce ne sono ma in questo video non parlerò di calcio mercato ragazzi poi se nel pomeriggio c'era qualche bomba interessante ve la porterò sul canale ma intanto vi saluto ragazzi buongiorno ma oggi andremo a vedere la mia rosa del fantacalcio 2022 2023 sì ragazzi perché il campionato ormai è quasi vicino alle porte e ieri abbiamo fatto l'asta abbiamo deciso di fare l'asta prima che iniziasse il campionato perché anche se c'era il calcio nel mercato di mezzo che finisce a settembre eccetera per non perdere punti per non perderci le prime giornate abbiamo deciso comunque di fare l'asta prima è un rischio perché qualcuno potrà partire qualcuno potrà arrivare ma non è un problema eventualmente perché a settembre appena chiude il calcio mercato faremo una mini asta di riparazione un fantacalcio che vi porterò anche su youtube nella mia serie che ho fatto anche l'anno scorso con gente diversa questa volta sarà un fantacalcio degli youtubers perché comunque ragazzi sono tutti youtuber quelli con cui affronterò questo appunto fantacalcio qui anche se poi ne fare un altro con i miei amici di genova ma quello lì non ve lo porterò quest'anno vi porto questo e partiamo subito ragazzi partiamo subito dai portieri allora ragazzi io per i portieri ho spinto tanto per il tolare ho spinto tanto per le mvp dell'anno scorso ragazzi ho preso magnan ho preso magnan a 50 crediti me l'hanno lasciato a 50 è stato il portiere più pagato se non sbaglio magnan ma ci può anche stare perché secondo me ripeto è il più forte che c'è l'anno scorso e può essere anche quest'anno a 1 ho preso tata rusano che dovrebbe essere il secondo di magnan se non sbaglio è sempre a 1 ho preso sepe il portiere della salida di tana titolare cercherò e spero di mettere lo meno possibile mille corna magnan spero che non si faccia male o sennò c'è sempre trattato usando come secondo alla fine per i portieri ho speso 52 c'è gente che ha speso meno e comunque ha fatto dei buoni colpi io ho speso bastanza so quello che ha speso di più sui portieri però il portiere per me è una certezza ragazzi perché se poi prendi dei portieri che non sono tanto affidabili puoi avere quei meno 2 meno 3 pesano pesano l'anno scorso avevo ripartito con terracione dragoschi quest'anno mi sono deciso di andare su magnan quindi 52 crediti per i portieri hanno ve l'ho detto ma noi giochiamo a 500 crediti ok e siamo in 8 a fare l'asta difensori difensori vanno presi in 8 lo sapete sono 8 difensori da prendere ho preso bonucci a 8 me l'hanno lasciato dovrebbe essere il titolare della juve rigorista dopo vlavic ovviamente c'è vlavic quest'anno che tira i regori penso io a quanto pare capace anche a battere le punizioni e un titolare e a 8 me lo tengo stretto ho preso calabria sempre a 8 me l'hanno lasciato terzino che in molti dicono che calulu potrebbe essere spostato terzino a posto di calabria perché è trovato kier e quindi la coppia centrale sarà kier tomori e forse calabria farà il panchinaro non lo so ragazzi a me calabria l'anno scorso è piaciuto me lo sono preso a 8 ho preso demiral a 8 ragazzi non sto scherzando ho preso tre giocatori a 8 in difesa ho preso racmani a 6 me l'hanno lasciato a 6 perché alla fine gli altri sono andati su altri difensori tipo altri terzini eccetera eccetera ho preso cambiaso del bologna appena approdato a polonia a 6 terzino di spinita che mi piace danilo a 6 lasciato a sé anche quello quindi danilo è un ottimo colpo per quanto mi riguarda gossens a 9 ho preso gossens a 9 perché in molti nella mia asta ha detto che gossens non sarà in condizioni fisiche ma anche il prossimo anno che vedrà poco il campo io uno come robbie gossens a 9 me lo tengo stretto poi se veda poco il campo la cosa mi dispiacerà ma se gossens dovesse tornare quello della dea ragazzi tanta tanta roba per me l'ultimo giocatore che ho preso a 5 e mancini meno da 5 ragazzi perché mancini è giocatore che pia più gialli della serie a quindi sempre meno 0,5 meno 0,5 meno 0,5 lo so però a 5 è un titolare della roma e quindi cosa fai non lo prendi quanto ho speso per i difensori ho speso un totale di 56 crediti quindi anche qui mi sono tenuto basso mi sono tutto basso io sono uno che cerca di risparmiare tantissimo nei primi tre reparti perché poi cerca di dare tutto il possibile per l'attacco ragazzi passiamo al centro campisti ragazzi allora altri otto giocatori da prendere il primo che mi sono preso e l'ho preso a 27 e secondo me me l'hanno anche regalato perché poteva partire per molto di più e mario pasalice ragazzi l'anno scorso pasalice ha fatto un bordello di gol e quest'anno ci punto io non c'era l'anno scorso pasalice ho puntato io quest'anno spero che possa fare molto bene e quindi l'abbiamo strappato a 27 crediti ho preso Fabian Ruiz a 7 perché a 7 perché in molti pensano che Fabian Ruiz se ne va da Napoli è vero ci sono delle voci in cui dicono che Fabian non vuole rinnovare eccetera eccetera ma se dovesse farsi ancora quest'ultimo anno a Napoli per poi andare in scadenza di contratto un anno di Fabian per me può fare benissimo a Napoli e quindi a 7 crediti me lo porto a casa terzo centrocampista Locatelli ragazzi Locatelli preso a 16 titolarissimo della Juventus se gioca a mediano purtroppo mi garantirà meno bonus perché Allegri molto probabilmente lo metterà a mediano perché non lo metterò manca ma qualora comunque Allegri lo volesse spostare a mezzala ed è una cosa che io comunque mi auguro da mezzala Locatelli fa degli assist e fa dei gol quindi me lo sono portato a casa a 16 poi gli altri ragazzi sono centrocampisti titolari ma di squadra un po' meno importanti senza offesa perché poi ho preso Maxime Lopez del Sassuolo a 3 ho preso Tamez del Verona a 6 che l'anno scorso ha fatto molto bene con Turo e spero che possa fare tanto bene con Cioffi ho preso Bairami dell'Empoli a 5 ho preso Lukic del Torino a 6 e ho preso Pessina dal Monza a 2 ragazzi nessuno si è cagato in Pessina e io a 2 ve lo sono portato a casa quanto ho speso per i centrocampisti ho speso 72 crediti ragazzi facendo una somma di tutti diciamo portieri difensori e centrocampisti io in quel momento lì avevo speso 179 crediti che meno i 500 che comunque parti di base avevo 321 crediti per gli attaccanti sarò riuscito a gestirli bene questi crediti per gli attaccanti avendo ancora 321 lo scopriamo adesso ragazzi attaccanti qua ci siamo scannati ve lo dico Vlaovic ho cercato di prenderlo da Juventino ma è partito tipo una cifra come il 230, il 240 adesso non mi ricordo e per me si vavano veramente troppi poi Immobile, Lukaku, anche quelli là hanno viaggiato a una cifra enorme fate conto che persino Abram se non sbaglio è stato pagato più di quello che ho preso io che comunque per me rimane un bomber davanti il primo acquisto che ho fatto ragazzi è Victor Osiman preso a 110 crediti me l'hanno lasciato a 110 crediti Osiman se non si rompe ragazzi cosa che non spero visto che l'ho preso da fantacalcio è uno che segna è uno che 20 gol li può fare tranquillamente quindi avendolo pagato meno degli altri attaccanti che comunque Berardi ha volato a 150 anche lì Immobile a 180 190 alla fine ci può stare Osimena a 110 ci può stare poi ho pagato 50 crediti Olivier Giroud ragazzi Giroud in teoria per adesso lo deve fare titolare poi sicuramente verrà un po' spalleggiato con Orighi Orighi però anche in questi amichevoli pre-season del campionato lo vedo bene più in pante lo vedo bene in forma Giroud e quindi me lo sono voluto portare a casa quindi 50 crediti per Giroud terza attaccante ragazzi Marco Arnautovic spesi 60 crediti Arnautovic hanno scorsa fatto un ottimo campionato a Bologna lo accostavano alla Juventus come vicevlavic io non ci credo hanno anche smentito questa cosa Arnautovic resterà a Bologna e quindi per me a Bologna può fare comunque più di 10 gol anche quest'anno che sta arrivando e quindi me lo porto a casa io con 60 crediti quarto attaccante ragazzi Caprari del Monza pagato 52 crediti ragazzi io Caprari e Monza io stravedo l'anno scorso ho fatto benissimo con il Verona per me può fare benissimo Caprari anche col Monza portando gol e assiste quindi me lo sono accaparrato e sono contento così poi ho preso Ciccio Caputo della Samp a 18 crediti che sarà titolare io penso della Samp comunque perché Pagliarella sarà una riserva e anche Ciccio Caputo quei 10 gol magari in campionato te li può anche fare e come ultimo ragazzi a 12 crediti ho comprato Boga per me Boga l'Atalanta quest'anno sarà titolare spero che possa essere titolare bisogna che comunque le hanno anche a morire per partente ho provato con Boga anche se Boga è uno di quelli che non mi convince tra tutti gli attaccanti che ho preso devo essere sincero quanto ho speso per tutti questi attaccanti qua ragazzi ho speso 302 crediti io sono rimasto esattamente con 18 crediti quindi io all'asta di riparazione avrò solamente 18 crediti poi ovvio se voglio svincolare qualcuno qualche credito mi rientra però non ne ho tanti vi posso garantire che ci sono formazioni che hanno più crediti di me e siccome poi arriverà Wainaldo arriverà certa gente importante io penso che questa gente purtroppo me la scorderò perché non avrò crediti a sufficienza potevo gestirli meglio i crediti per gli attaccanti sicuramente si ragazzi perché avendo 321 crediti invece che per un bomber da 20 gol avrei potuto usare a prendere anche un altro bomber che ne facesse altrettanti 20 però poi cosa ho pensato cosa faccio prendo due bomber e poi altri quattro attaccanti prendo gente di poco livello ho approfitto a prendere un bomber e a prendere altri 5 attaccanti che comunque nelle gambe volendo 10 gol ce l'hanno perché Osimene può fare 20 Mojiru può fartene 10 Arnato ce ne può fare 10 Caprali tagoleastici può arrivare a 10 gol anche Caputo non arriva a 10 ma a 5 6 7 te li fa e Bogat potrebbe farti qualche gol qua e là quindi secondo me se andiamo a vedere nell'insieme il mio attacco è un buon attacco perché i 20 Rosimene i 10 di Giru i 10 di Arnato i 10 di Capravi ve li butto lì insieme comunque fanno già 50 gol togliendo comunque Caputo e Bogat sto ipotizzando sto ipotizzando perché poi non va sempre come come credi però per me l'attacco è buono la rosa in generale è una rosa discreta che può lottare per questo fantacalcio vi dico che il fantacalcio è molto equilibrato perché poi c'è che ha preso Osimè che ha preso Immobile che ha preso Abel che ha preso Di Bala che ha preso tanti altri giocatori quindi siamo in 8 ognuno ha il suo bomber e magari anche un altro attaccante che comunque fa tanti gol tutti siamo messi bene però fatemi sapere un po' voi qui sotto nei commenti ragazzi come vi sembra la mia rosa del fantacalcio quest'anno ditemi un po' la vostra ditemi se potevo comportarmi in una maniera diversa e soprattutto meglio se potevo agire meglio lasciate un bel like se vi è piaciuto questo video perché ragazzi se io vedo tanto il vostro supporto la porterò comunque la serie sul fantacalcio però se vedo il vostro supporto con tanti like mi fa ancora più piacere questa cosa e soprattutto ragazzi anche iscrivetevi al canale vi ringrazio di cuore perché ultimamente gli ultimi video sono andati molto bene e siamo anche saliti di iscritti quindi mi raccomando continuate a iscrivervi perché il gratuito non costa nulla per vedere tanto basta che fate click lì e siete iscritti condividetevi con i vostri amici fate iscrivere anche loro e attivate la campanella notifiche così non perdete i prossimi video passate sui link in descrizione anche alla borda di Fusi Channel una nuova stagione sta iniziando a nuove smadonne stanno arrivando ragazzi il fantacalcio incombe bella